Ieri è stato un giorno, un po' parto incontrare, mi ha fermato il giorno e parto la strada di sette ore, fermo sulla tracenziale, sette ore, non mi scappa da un po' chiamo Il dottore poi mi ha detto non sperare, sto tumore eterno, non può lavorare Ma c'è un fatto che mi manda in depressione, mi è scoppiata ieri la televisione Ho perso più di cui, mi manda più di cui, mi sento più di cui, mi danno più di cui Oh Dio, vivere in un posto così dritto La gente rotta e il discorso è sempre fatto che si veste dentro, tutti i magazzini che si notano E che da un po' signor pin, quando ti li festano di cui, mi manca più di cui, mi sento più di cui, mi sento più di cui Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione